Assessore Perotti, mercoledì sera la raccolta dell'umide non è stata effettuata e quindi la vediamo in giro per il territorio anche stamattina. Che cosa sta succedendo? In realtà ci sono stati praticamente dei problemi con lo scarico allo stile di Giuliano, quindi c'è stato un rallentamento nella raccolta. Ma abbiamo già sentito la ditta della GPN che ci ha garantito che per domani, insomma domani mattinata, la situazione ritornerà alla normalità. Per tutti gli altri tipologi di rifiuti invece tutto è normale? Al momento la GPN non ci ha dato dimostranza di altro tipo di problematiche, quindi proprio stamattina mi ha rassicurato che entro la giornata di domani mattina il servizio ritornerà regolare senza alcun'altra conseguenza al territorio. Pare che secondo indiscrezione dovrebbe essere modificata la raccolta differenziata da qui a qualche mese? Abbiamo appunto deliberato ieri in giunta il cambio, il rimordulamento più che altro delle giornate di ritiro della differenziata, ma questo non incide sul problema che si è venuto a creare in questi giorni.